Lunedì prossimo, 23 marzo, a partire dalle 9.30 di mattina, la Sala dei Teatini, un contesto molto prestigioso, ospiterà un convegno che vedrà al centro ancora l'energia. Piacenza è stata per tanti anni capitale nazionale dell'energia, un punto di riferimento europeo. Tantissimi gli ospiti di prestigio. Aprirà i lavori il sottosegretario all'economia, la piacentina Paola De Micheli. A chiudere i lavori il ministro per lo sviluppo economico Federica Guidi, in mezzo a una tavola rotonda a cui parteciperanno rappresentanti di Edison, di Eni, di Drilmec, di Fincantieri, tra loro anche il piacentino Pietro Cavanna, presidente del settore idrocarburi e geotermia di Asso Mineraria. Ci presenti questo convegno che fa ancora una volta di Piacenza uno dei riferimenti nazionali per l'energia. Lunedì 23 sarà sicuramente un grande evento. Devo dire che il merito di riuscire a raccogliere tutti questi personaggi di alto rango va sicuramente ai veterani dell'Agip, al comune di Piacenza, che sono riusciti a far sì che Piacenza possa continuare in un momento tra l'altro abbastanza difficile nella nostra nazione dell'attività, della ricerca e sviluppo di drilmecaburi, un convegno così prestigioso con personaggi di così alto rango. Il tema è innovazione e soprattutto vincere le sfide per qualità ed efficienza creando contestualmente opportunità di lavoro in un momento di crisi vale doppio, quindi? Sicuramente, beh, prima di tutto nel nostro lavoro l'innovazione è una cosa che noi teniamo in grande conto perché lo sviluppo della tecnologia permette sempre di essere, diciamo, sulla prima linea e riuscire anche a sviluppare qualcosa che possa essere apprezzato nel mondo intero e devo dire che la nostra filiera di attività che include società di beni e servizi come per esempio a Piacenza la drilmec è riuscita sicuramente a sviluppare grandi tecnologie e esportarla all'estero. Il museo che è stato inaugurato nel 2014, grande successo? Sì, il primo ottobre devo dire che è stato veramente un grande successo e soprattutto gli organizzatori e noi stessi abbiamo voluto che questo museo non rimanga un qualcosa di statico ma che serva, come diceva lei prima, a far sì che i giovani studenti possano trovare un trampolino di dancio per future attività.